Federica Panicucci, nata a Cecina il 27 ottobre 1967, è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex showgirl italiana. Dopo il debutto televisivo a Portobello, ha inizialmente diviso la sua carriera tra Rai e Fininvest, partecipando a varie trasmissioni televisive in ruoli minori. Tuttavia, ha ottenuto il successo negli anni 90, diventando un volto simbolo di Italia 1 e conducendo diverse edizioni del Festival Bar. Dopo una parentesi su Rai 2 dedicata ai programmi sentimentali, è tornata in Mediaset nel 2006, conducendo con successo la prima edizione della Puppa e il Secchione. Dal 2009 al 2021, è stata alla guida di Mattino 5 su Canale 5. Nel corso della sua carriera, ha anche lavorato come conduttrice radiofonica, collaborando per diversi anni con Radio DJ e successivamente con R101. Oltre al suo impegno nel mondo dello spettacolo, ha avuto esperienze nel campo della moda e della pubblicità. Il suo debutto televisivo risale al 1987 come centralinista dell'ultima edizione di Portobello su Rai 2. Il suo passaggio alla Fininvest nel 1988 la vista coinvolta in trasmissioni come il gioco delle coppie su Canale 5. Successivamente, ha ampliato la sua presenza televisiva, partecipando a programmi come Unomania e conducendo l'anteprima del Festival Bar nel 1992. Il successo è cresciuto ulteriormente con la conduzione del Festival Bar stesso nel 1993, affiancando Fiorello e Amadeus. Il suo percorso professionale ha attraversato diverse fasi, con esperienze sia in Rai che in Mediaset. Nel periodo tra il 2000 e il 2005, ha lavorato in esclusiva per la Rai, conducendo programmi come Affari di Cuore e Scherzi d'Amore. Nel 2006, è tornata in Mediaset, conducendo varietà come Comi di Club e diventando Volto di Punta di La Pupa e Il Secchione. Dal 2010 al 2020, ha condotto Mattino 5 e Domenica 5 su Canale 5. Successivamente, ha affiancato Francesco Vecchi in Mattino 5 News dal 2021. Nel 2023, è tornata a condurre un reality show, Back to School, su Italia 1. Nel suo percorso privato, dal 1995 al 2015 è stata legata a Mario Fargetta, con cui ha avuto due figli. Dal 2016 è legata a Marco Bacini. La salute di Federica Panicucci è stata oggetto di attenta osservazione da parte dei tifosi e del pubblico. Nel 2017, ha affrontato non uno, ma ben tre interventi di bypass, una procedura eseguita per ripristinare il flusso sanguigno al cuore. Questi interventi sono stati necessari a causa di una lunga storia di forte fumo, durante la quale consumava 25 sigarette al giorno. Dopo l'intervento chirurgico, ha preso la coraggiosa decisione di smettere di fumare, mettendo la sua salute al primo posto. Nonostante la coraggiosa battaglia contro le malattie cardiache, Federica ha subito un lieve infarto nel 2019. Nonostante fosse una battuta d'arresto, ha affrontato la situazione con la sua solita determinazione, dimostrando di essere una lottatrice che non si lascia definire dalle avversità. Nel luglio del 2023, è emersa la notizia straziante che a Federica è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer, una condizione neurodegenerativa che colpisce la memoria, la cognizione e le attività quotidiane. La sua famiglia ha raccontato di momenti in cui era confusa a riguardo a alcuni dei film più importanti della sua carriera, arrivando a confondere i nomi e persino i luoghi delle riprese. Questa realtà è stata dolorosa sia per Federica che per i suoi cari, poiché la malattia ha gradualmente preso il sopravvento sui suoi ricordi. Nonostante le sfide legate al declino della sua salute, Federica ha continuato a ricevere amore e sostegno da parte di familiari, amici e fan. La sua morte è avvenuta il 23 gennaio 2024 in un ospedale senza nome, causata da un attacco di cuore, un destino crudele che ha richiamato le battaglie che ha affrontato durante la sua vita. Anche se la sua presenza fisica ci ha lasciato, il suo spirito, il suo talento e il suo impatto sul mondo continueranno a vivere. La straordinaria carriera di Federica ha lasciato un segno indelebile nell'industria dell'intrattenimento. Il suo contributo al cinema è stato riconosciuto da colleghi e critici, consolidando il suo status di una delle attrici più talentuose e influenti della sua generazione. Oltre ai premi e ai successi, l'eredità di Federica risiede nella sua capacità di affascinare il pubblico con performance accattivanti e nella sua volontà di assumere ruoli unici e stimolanti. La sua dedizione all'arte, l'autenticità e la volontà di superare i limiti l'hanno resa fonte di ispirazione per aspiranti attori e artisti di tutto il mondo. Mentre diciamo addio a questa donna straordinaria, ricordiamo Federica per il suo immenso talento, la sua presenza magnetica sullo schermo e l'ispirazione che ha fornito a innumerevoli persone in tutto il mondo. Possa il suo ricordo vivere per sempre. Un manga che sono molto buoni a leggere che io non avrei mai vedere, c'è chiaro, quindi c'è veramente l'occasione. On va enchaîner maintenant con una grosse nouveauté di Meiyan. Non, 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 perché io l'ho chavo, perché io l'ho chavo, 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 io l'ho chavo lo chavo. supposé succubus en hitman hop voilà donc au niveau de l'édition rien à dire comme d'habitude travail de Mayan un manga extrêmement propre très agréable à prendre en main avec la petite ceinture les petites pages couleurs bref tout y est on commence à connaître ces collections d'Eitan ce qui veut dire que nous sommes sur un manga tout de même pour public averti et oui oui nous sommes dans un univers démoniaque un petit peu comme avec les vampires ça veut dire que le rapport au corps le rapport charnel peut être très présent par moment même si c'est pas gratuit même si c'est pas exagéré dans le titre que ça arrive de façon assez logique par rapport aux situations proposées à l'ambiance à l'atmosphère que propose le manga ça tient la route il n'y a pas une surenchère comme ça de scène gratuite donc ça marche bien allez on en parle succubus et hitman ça va nous parler alors le prénom du gars attendez que je dise pas de bêtises il va s'agir du personnage de shoya gamo enfin presque en vérité il va s'agir du corps de shoya gamo à l'intérieur duquel va être peut transférer un autre une autre personne qui a passé un pacte avec son démon il va falloir lui qu'il récupère des décors qu'il leur est remplissent des contrats et pour que ce démon là puisse ensuite ingérer les âmes des cibles il a intégré le corps de shoya gamo pourquoi parce que shoya gamo lui-même est mort et un passé un pacte avec ce démon aussi je ne vous dirai pas quoi je vous laisse découvrir en tout cas on revient sur notre premier personnage qui a intégré le corps vide il est là pour remplir une vengeance et donc à chaque fois qu'il va remplir son contrat qu'il va réaliser une mission il aura accès on va lui donner accès à des informations pour pouvoir retrouver quatre personnes que lui veut absolument tuer voilà c'est un solde voilà c'est un solde killer une sorte d'agent de la mort et il est là pour récupérer les âmes humaines et hop les offrir à son démon à sa succubée c'est extrêmement dynamique mais vraiment très contrasté au niveau des traits des scènes d'action de combat c'est bien sûr dans un milieu plutôt malfaisant de mafieux de violeurs tueurs dans la nuit donc c'est très contrasté au niveau des traits et de l'ambiance ça me fait un petit peu rappeler d'ailleurs à ce niveau là niveau du contraste en j'entends à au 9 août tu me dévoreras j'ai trouvé qu'il ya quelques similitudes là dans le jeu de couleurs et ça marche plutôt bien c'est dynamique là on est vraiment sur un manga pop corn faut pas se prendre la tête mais c'est pas non plus inintelligent et complètement idiot c'est pas vrai du tout du tout du tout le scénario tient bien la route vous êtes sur une histoire de vengeance donc c'est clair le personnage qui veut manger ne pense qu'à ça ou presque sauf que voilà vous pensez bien que s'il a intégré le corps d'un lycéen il va bien falloir aussi qu'il accepte toutes les contraintes liées à la vie de lycéens qui peut amener quelques petites situations comiques ou paradoxales avec son propre objectif je vous laisse moi deviner je vous laisse lire découvrir surtout ce qui